E' stato convalidato l'arresto nel carcere di Bologna del 42enne Amrallah Mustafa Alashri, marito killer della 23enne Anastasia, fuggita dalla guerra in Ucraina e arrivata lo scorso marzo da Kiev a Fano, dove si era integrata come cameriera all'Osteria dalla Peppa e come insegnante di pianoforte. Dall'interrogatorio in carcere l'omicida ha ammesso il crimine, cercando però di attenuarne i contorni, argomentandolo come una reazione non voluta all'ennesimo acceso litigio di cui però ha detto di non ricordare i dettagli. I fatti nella casa di Via Trieste dicono però che Anastasia è morta coltellata e che il marito ha cercato di sbarazzarsi del cadavere rinchiudendolo in una valigia, poi abbandonata nelle campagne fanesi e decidendo di darsi alla fuga verso l'Austria con 3.500 euro, non prima però di aver concluso il suo turno di lavoro alla pasticceria fanese Cavazzoni. Il marito è stato arrestato domenica sera alla stazione di Bologna. Il corpo di Anastasia è stato ritrovato lunedì mattina nella campagna fanese di Villa Giulia su indicazione dello stesso assassino che aveva commesso il delitto domenica mattina. Sia in Ucraina sia a Fano Anastasia aveva continuato a subire maltrattamenti dal marito. Molestie ridimensionate sotto le bombe amplificate arrivata in Italia, dove Anastasia decide presto di troncare i rapporti e di frequentare un nuovo ragazzo. Appena l'11 novembre scorso Anastasia si reca in caserma con la sua avvocata per denunciare i maltrattamenti del marito, ma la scorsa domenica mattina lascia il figlio e il nuovo compagno per andare nell'abitazione del coniuge a recuperare alcuni vestiti. Qui però arriva l'incontro fatale con l'egiziano. Domenica il nuovo compagno le telefona ripetutamente in vano e scatta la denuncia per scomparsa che porterà fino alla cattura dell'omicida. Ora a breve attesa a Fano la madre di Anastasia che vive in Slovacchia per accudire il bambino di due anni rimasto orfano in attesa del pronunciamento del Tribunale dei minori.